Il World Economic Forum ha inserito la tracciabilità digitale nella classifica delle 10 innovazioni che rivoluzioneranno la società. Un sistema particolarmente promettente è la blockchain, la stessa tecnica che regola il funzionamento delle criptovalute, come i bitcoin. Questa tecnologia permette di costruire un database distribuito, completamente sicuro e facilmente accessibile a tutte le parti in causa. Utilizzando la blockchain sarà impossibile per qualunque attore della filiera alimentare, come i responsabili del trasporto, mentire sulla qualità o l'origine di un prodotto. Insomma, non si potrà più far passare per prosecco un qualche vinaccio di pessima qualità, come, purtroppo, capita tuttora in numerosi paesi.